allora eccoci Raffa, si parte, sarà dura eh, niente ce ne stiamo andando, siamo già in ritardo di tre ore siamo già in ritardo di tre ore, niente allora abbiamo aperto questo canale per condividere con noi la nostra avventura perché forse solo due pazzi come noi potevano accettare questa cosa e manderemo ogni giorno due tre video per illustrarvi quello che stiamo facendo e come sta andando in Libia sì avete capito bene Libia, oggi arriviamo a Tunisi, se arriviamo oggi arriviamo a Tunisi, firmiamo il contratto e poi domani si dovrebbe volare in Libia, niente un saluto a tutti, guarda Raffaele, no il tifosi del Cagliari dai te lo devo dire io, assolutamente, un saluto a tutti i tifosi del Cagliari, speriamo di tornare con la bandiera del Cagliari, e dai anche se sono interista un po' a forza Cagliari anch'io perché Raffaele mi ha fatto conoscere che popolo, che popolo magnifico siete, anzi dice forza Casteldu forza Casteldu, abbiamo un po' nel coro anch'io e forza Casteldu, niente ci sentiamo quando siamo a Tunisi ciao ragazzi, ciao a tutti